E' morto nella notte nell'ospedale di Piedimonte in Matese l'imprenditore Genaro Galdiero, 40 anni. L'imprenditore ortofrutticolo ferito ieri sera con due colpi di pistola a bordo della propria auto allo svincolo dell'autostrada 1 nei pressi di Cajanello. E con l'accusa di omicidio i carabinieri di capo hanno sottoposto a fermo una persona dopo che ieri sera si era costituita nei locali della tenenza di zona. Si tratta di un imprenditore di 52 anni a quanto pare collegato al consorzio di cui Galdiero era responsabile. La vittima era nota in campagna come il re delle mele per aver partecipato a varie trasmissioni televisive in qualità di esperto del settore ortofrutticolo ed esponente dell'UNAPROA Unione Nazionale Produttori Ortofrutticoli. Una delle sue ultime partecipazioni era stata il 12 luglio dell'anno scorso a 1 mattina estate sul Rai 1 per discutere dell'aumento dei prezzi e della qualità della frutta estiva. Ancora tutti da definire i contorni del delitto anche se l'ipotesi che si sta accreditando è quella di un problema legato alla gestione del consorzio al quale entrambi appartenevano.